Vallo della Lucania, centro degli studi della biodiversità dell'ente parco nazionale Cilendo Vallo di Diana e Alburni in occasione dell'incontro tra l'ente parco e i sindaci del territorio sulla problematica emergenza cinghiale. Un invito anche diretto a venire qui e incontrare i nostri agricoltori, incontrare le associazioni di categoria, i sindaci e il territorio potrebbe essere un buon segnale anche per capire il problema che c'è e d'altra parte lo facciamo anche come area protetta. Sì, è stata una giornata importante perché abbiamo visto il coinvolgimento dell'intero territorio, un intero territorio in modo compatto, unitario, parco incluso, chiaramente a gridare un po' questo grido di allarme, di allarme che c'è e di emergenza che c'è sui nostri territori per quanto riguarda i tanti danni che i cinghiali continuano a provocare ai nostri raccolti. Sono tanti gli agricoltori e non solo ad essere danneggiati. Noi siamo dalla stessa parte, oggi siamo dalla parte degli agricoltori, tra l'altro oggi erano presenti tanti agricoltori, di col diretti in modo particolare, che hanno rappresentato una difficoltà, che hanno rappresentato un'esigenza, una richiesta forte di aiuto. L'emergenza cinghiale oggi è un'emergenza nazionale, basta guardare le notizie che quotidianamente apprendiamo dai giornali e vediamo che ogni giorno ci sono regioni diverse dove ci sono avvistamenti e danni provocati dai cinghiali. Poi è stata anche l'occasione per precisare alcune cose. Il Parco Nazionale del Cilento, Valleudiane e Alburni non ha mai fatto immissioni di cinghiali, così come i nostri selecontrollori, più di 300 selecontrollori che sono stati formati e abilitati dal Parco Nazionale del Cilento, Valleudiane e Alburni, oggi hanno determinato un abbattimento in un anno di 2.220 cinghiali, quindi che sono numeri importanti, sono numeri significativi, non sono numeri di poco conto. La dimostrazione del fatto che non è che non stiamo facendo nulla, anzi stiamo mettendo in campo tutte le azioni che la legge ci consente, compreso i cini di cattura che fra qualche giorno saranno operativi, compreso la filiera dei cinghiali sulla quale stiamo lavorando e continueremo a lavorare in queste settimane per arrivare anche alla definizione, nonostante una burocrazia complessa e particolare, perché su questo poi dobbiamo anche riflettere e dobbiamo sottolinearlo. Oggi, e inoltre mi fa piacere precisare che i selecontrollori all'interno dell'area Parco possono fare l'abbattimento selettivo dei cinghiali dal 1 gennaio al 31 dicembre, quindi non è vero che nel Parco non si abbattono i cinghiali e i 2.200 cinghiali abbattuti sono venuti all'interno del territorio del Parco. Oggi nella nostra delibera, in modo, ripeto, unitario, tanti sindaci presenti, che ringrazio ovviamente, presenti un po' anche le associazioni di categoria, noi abbiamo chiesto al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Agricoltura, di farsi loro portavoce all'interno del Consiglio del Ministro per valutare la possibilità di avere uno stato di emergenza nazionale o quantomeno di assumere dei provvedimenti legislativi che vanno nella direzione di cercare di arginare questo continuo problema legato all'emergenza dei cinghiali. Così come abbiamo chiesto alla Regione, al Presidente della Giunta regionale, chiaramente di mettere in campo iniziative per armonizzare le iniziative che ci sono all'interno dell'area Parco, così come le stesse iniziative si devono replicare anche fuori dall'area Parco. Quindi mettere in campo un'azione di sinergia e di collaborazione perché altrimenti se da una parte si fanno delle cose e dall'altra parte si fanno cose diverse, ovviamente l'azione diventa meno efficace. C'è quindi sia energia che collaborazione è fondamentale chiaramente per mettere in campo un po' di iniziative concrete. Così come abbiamo chiesto anche al Prefetto di valutare, visto che il 9 faremo una riunione specifica che ha convocato il Prefetto e lo ringrazio di questo, di valutare l'opportunità di istituire un comitato di sicurezza specifico sul tema delle emergenze cinghiali. Così come abbiamo chiesto anche in parchi a noi vicino, in particolare il Pollino e l'Appennino Lucano che hanno le stesse problematiche nostre e anche loro di valutare, di adottare provvedimenti così come abbiamo fatto oggi per sollecitare appunto questo stato di emergenza legato ai cinghiali. Io penso che noi ci stiamo mettendo tutto quello che appunto è nelle nostre possibilità.